Tempo supplementare Un minuto di tempo supplementare per decidere il vincitore della Golden Belt Come avete visto il touch score magari ha anche le regole un po' diverse dall'altro torneo ma i colpi sono durissimi ne basta uno incassato male si va dritti all'ospedale è così il contatto non è leggero anzi è durissimo qui piodono meteore sui corpi dei combattenti e abbiamo un vantaggio notevole ora di 4 punti per la squadra bianca per il team di lottatori europei infatti gli ucherenzi stanno cercando di recuperare a tutti i costi i secondi se ne vanno ora i punti sono soltanto 3 quelli che lì in distanza non passiamo a 15 secondi 24 a 22 25 a 22 a 10 secondi ormai il divario è impormabile si monta con la forza della disperazione ma il tempo purtroppo è irrimediabilmente scaduto direi di sottolineare con un ultimo applauso un attimo bravo 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 Grazie.